Provincia e scuole, sperrato un duro colpo al cuore di una scuola ormai agonizzante. Sono stati tagliati infatti alle scuole agrigentine per l'anno scolastico 2013-2014 dei fondi utili solo per pagare le bollette di energia e telefono. Un provvedimento preso prima che diventi esecutiva la soppressione dell'ente. Una decisione che come una mannaia si abbatterà sulle istituzioni scolastiche che già quest'anno hanno dovuto tagliare molti progetti e che a stento riescono a garantire le supplenze per i pesanti tagli sul fondo d'istituto. Adesso i dirigenti scolastici si ritroveranno alle prese con nuovi tagli su importanti servizi e attività. Appena alcuni giorni fa il presidente della provincia, Giulio Dorsi, aveva fatto una sorta di consuntivo su quanto realizzato dalla sua amministrazione, da lui definita tra le più virtuose d'Italia. E già oggi si ritrova a dover rinviare ai dirigenti scolastici una lettera di poche righe per spiegare che i soldi per le scuole sono finiti. Nella lettera in particolare firmata dal responsabile del procedimento Boris Gaglio e dal direttore del settore politiche del lavoro e dell'istruzione Amelia Scibetta, si legge questo ente ha subito una drastica riduzione nell'assegnazione di fondi statali e unitamente alla già prevista consistente diminuzione di quelli regionali ci sarà l'impossibilità oggettiva di garantire per il secondo semestre 2013 l'erogazione di fondi per le spese di funzionamento di codessi istituti nella misura stabilita per il primo semestre. Nella lettera si aggiunge, pur consapevoli delle criticità di ciascun istituto scolastico, si chiede a tutti i dirigenti scolastici ancora un maggiore sforzo nel contenimento delle spese limitandosi in sede di rendicondazione a far riferimento soltanto a quelle che abbiano carattere di assoluta indispensabilità. Insomma, come detto, i soldi che arriveranno serviranno solo per pagare le bollette di luce, telefono, tributi. E mentre si taglia da un lato o dall'altro alcune scuole che avevano predisposto interventi di tinteggiatura e rinnovo degli arredi interni, potenziamento dei sistemi di sicurezza o acquisto di nuovi libri per le biblioteche, dovranno velocemente attivarsi per disdire tutto. Nella terra di Pirandello, in cui il paradosso è di casa, non c'è da stupirsi, ma sarebbe almeno il caso di indignarsi per il trattamento riservato alla scuola agrigentina, che fa i conti anche con i rischi dovuti alla faticenza delle strutture che ospitano i vari istituti. In ordine di tempo ricordiamo solo il crollo al plesso Tortorelle, ma l'elenco sarebbe lungo. Insomma, una crepa nel cuore dell'istruzione che difficilmente si rimarginerà, considerato che non si riesce a garantire più nemmeno la normalità, salvaguardando il diritto allo studio.